eccoci tornati in diretta e ho il piacere di avere accanto a me il nostro amico maurizio poli buongiorno cristo giorno 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 come bella giornata oggi è una buona giornata oggi se la facciamo andare bene se la facciamo andare bene da solito allora diciamo che prima di tutto c'è stato c'è un disguido purtroppo tecnico se si è bruciata la macchina importante che arriverà in giornata da utile però ieri questo ha creato un piccolo problemino e devo salutare gli ospiti di restart che non sono andati in onda ieri il panificio sberti e le cabale ragazze qua di brescia la manderemo in onda sicuramente mercoledì prossimo prossimo recupereremo artigiani imprenditori coraggiosi una bellissima puntata vi aspetto sempre su restart a mercoledì alle 21 45 sono cose che tecniche che possono accadere viviamo nella tecnologia quando la tecnologia si gioca a contra ti pensa che martedì nel mio programma della sera abbiamo parlato proprio di quando la corrente ci abbandona nel caso la tecnologia si ha abbandonato no e quindi purtroppo sono cose che che capitano non dovrebbero capitare però insomma non è sicuramente colpa dei ragazzi e quindi no 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 i ragazzi sono sono fantastici soprattutto la regia soprattutto fabio il suo collaboratore tutti i ragazzi si 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 prodigono tantissimo ci danno una mano si interessano la trasmissione va bene per anche perché c'è come tutte le aziende camminano sulle gambe delle persone assolutamente le aziende camminano fatte di persone persone e le persone fanno la differenza allora entriamo a parlare un po' adesso del di quello che poi il tuo pane quotidiano tempo l'economia le start up le nuove le nuove aziende che vediamo delle tue trasmissioni ci sono sempre nuove 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 aziende e anche con persone che si inventano si inventano nuovi modi di lavorare e nuovi lavori quindi certo sono è vero quello che dici la gente si inventa nuovi modi di porsi nuove si alza presto la mattina e si inventa delle cose ma si inventa anche con cognizione con mettendo dei numeri facendo dei business plan cercando di intraprendere quindi intraprendere vuol dire cercare di portare a casa dei risultati cercare di portare a casa degli obiettivi credendoci non facendo voli pindarici ma credendoci nel proprio sogno sono parole vuote non è vero ci sono delle situazioni interessanti anche nelle start up è vero ci sono delle problematiche dal punto di vista delle start up molte molte nell'arco dei due o tre anni cadono cadono nel senso che non non il progetto non va avanti certo bisogna andare a vedere perché non è andato avanti cosa non ha dall incubatore al campo aperto cosa è successo se il progetto non era troppo forte se l'aspetto finanziario se l'aspetto commerciale se l'aspetto imprenditoriale quanto ci hanno creduto questi ragazzi molti sono giovani sì molti sono giovani in italia si verificano quelli che si trovano ormai uno su due disoccupati uno su due disoccupati più bisogno in assoluto di inventarsi un lavoro se vogliamo improprio inventarsi un lavoro improprio e magari con la prospettiva di darlo ad altri certo di darlo ad altri ci sono delle belle realtà che avremo ospiti eccetera che partono e in due anni e mezzo stanno dando lavoro a altre persone un giro positivo anche di di mercati magari fermi parlo di una cosa che faremo sicuramente settore immobiliare dici ma settore immobiliare che appunto è uno dei più fermi come l'edilizia come l'edilizia mi ha fatto la puntata sull'edilizia moltissime realtà sappiamo purtroppo sono crollate dal punto di vista economico molta gente è a spasso nel settore edile molte società sono fallite diciamolo proprio chiaro mettendo in crisi capicantiere che erano da anni esperienze capacità e poi tutto l'indotto artigiani idraulico elettricista penso che l'edilizia ha un indotto enorme è il volano è il volano di un paese se pensiamo che i dati della spagna stanno cominciando a dire che i prezzi delle case stanno cominciando a tornare a salire di poco 1 5 2 per cento però il segnale è da lì l'economia comincia a riprendersi è da lì che viene quindi secondo te oggi allora troviamo sulle sui giornali draghi dice stiamo aiutando la ripresa giù l'euro quindi si abbassa il cambio euro dollaro e questo dovrebbe aiutare le esportazioni eccetera ma abbiamo le basi per far ripartire l'economia perché qui si sta parlando di job act eccetera che secondo me da solo job act non fa aiuta solo a licenziare e a rendere un po più precaria la situazione il job act da solo non fa l'impresa serve l'impresa per poter poi sfruttare job act anche perché nessuno assume per non produrre nulla no no non è che uno mette un'impresa tanto per assumere qualcuno per i veri così a farci al bar o dieci dipendenti sono imprenditore o dieci penne no a parte gli scherzi il dollaro e l'euro sicuramente è sceso l'euro è quasi alla parità 105 104 108 scilla su questa mano arriveremo alla parità sicuramente chi esporta verso verso quei paesi ha sicuramente un vantaggio competitivo interessantissimo ma è tutto guidato sempre dall'america perché lei ha voluto questo sicuramente noi dobbiamo approfittarne adesso di questa cosa per rinforzarci noi in casa per avere la possibilità di incamerare affari opportunità se tu pensi che il prezzo del petrolio noi paghiamo il petrolio in dollari e la gente si fa questa domanda parliamo anche di cose spicciole l'economia della gente che la vive perché poi vado alla pompa dice sente il prezzo del petrolio oscilla tra i 45 e 52 dollari era 80 100 dollari certo certo e il dollaro è sceso vado alla pompa di benzina e non vedo tutta questa vedo leggermente leggermente poco poco non c'è una bella marcata discesa come ha avuto il dollaro o il petrolio perché questo perché noi abbiamo le accise bravo cristian il prezzo del 36 ad oggi bravissimo ancora la bissinia se noi guardiamo il prezzo del dollaro e il prezzo del petrolio incide su un 30 per cento del valore di quello che andiamo alla pompa cioè quello che faccio il gesto di mettermi il gasolio la benzina nella macchina solo 30 per cento incide il resto sono tutte accise che il nostro stato famelico dal punto di vista delle imposte e nico soprattutto verso le imprese a non può fare a meno è come un drogato non può fare a meno è uno stato però che non pensa che magari e forse abbiamo anche già detto e può essere la cosa più banale di questo mondo quello che dico cioè abbassando abbassando le tasse che sono enormi per per una persona che ha una partita iva siamo arrivati al 64 per cento e si e quindi abbassando le abbassando le tasse ci sarebbe la possibilità che anche investitori esteri possano venire in italia e un circolo virtuoso di lavoro possa portare delle tasche dello stato dei soldi sono tre le cose sono tre le cose che impediscono gli investitori io non sono economista però no 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 ma questa è la stupida no 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 questa è la base di quello che hai detto perché sono tre le motivazioni che impediscono agli investitori esteri di venire qua in italia sono tre delega fiscale che giace in parlamento non si sa dov'è in qualche commissione non se ne è più parlato parliamo parliamo di altri parliamo di senato parliamo di cose che ma tu alla mattina vedi la gente che si accapiglia no certo per il senato per il senato per quanti senatori vanno non vengono non riportare le parole esatte che senti però è questo che la gente sente nella pancia non se le tasse scendono anche gli investitori esteri dicono 64 per cento perché devo investire qua altra cosa l'aspetto della giustizia se non ho una giustizia certa in tempi certi eccetera come faccio investire in quel paese come faccio a far valere i miei diritti un'impresa estera guarda questo un'azienda che abbiamo portato morgan tecnica che qui ad adro che fa delle bellissime macchine per fare tessuti come questa poltrona qua ha andato in america in canada aperto in canada in una settimana una settimana ha messo in fila tutto e quanti dalle banche le relazioni eccetera si è trovata nella riunione dice vabbè adesso ci sarà la camera di commercio no no qua oggi facciamo un documento che voi siete aperti avete l'inizio attività l'avvocato che gli segue tutto quindi una fluidità una una che non ha pari qua da noi non c'è questa cosa qua anche perché da noi per aprire un'azienda o un'attività ci vuole ma se tu abbiamo iniziato con le start up se tu interroghi un start up che soprattutto nelle tecnologie nelle app eccetera che vuole iscriversi nella sezione speciale già il nome sezione speciale già lì già il fatto che è speciale della camera di commercio per imprese innovative le forche caudine ai tempi burocratici per iscriversi in questa sezione epico epico quindi però se non sono iscritto lì non posso non posso accedere dei determinati contributi non posso avere un occhio di riguardo nel settore del credito perché ci stanno guardando dentro magari un business angels non mi viene a dare nomi non mi finanzia l'iniziativa devo essere iscritto in quel comparto lì e non ci sono magari l'idea innovativa e potrebbe sicuramente dar del lavoro delle persone a molte altre quindi solo questo piccolo fatto la burocrazia il moloch della burocrazia spaventa gli investitori anche perché questo poi porta a creare la propria azienda la propria start up eccetera in un altro paese londra londra lo fai in due giorni in due giorni in due giorni in due giorni e tanto che ti guardi attorno c'è un avvocato che ti fa tutto tu sei già operativo e poi trovi l'humus adatto cioè cosa voglio dire le relazioni la facilità di trasporti la facilità di connettersi con altre persone che parlano di queste cose la possibilità di avere altre esperienze di contaminarsi e essere in regola molti aprono lì perché perché olanda in una in una società comunque che permette 24 ore su 24 di essere operativi di essere pronto pronto buongiorno giampiero buongiorno giampiero buongiorno che lei ha tornato sul discorso di premio si seguivo da molto prima che adesso no e su quel discorso di io non dovrei neanche esprimermi perché è già scontato che si tratta di due mondi completamente opposti ma riguardo quel discorso di degli orari delle paure ma no però adesso giampiero adesso stiamo parlando di economia il discorso di prima degli orari è andato si congiunge sempre se si congiunge mi sta bene perché si parlano degli straordinari alcuni fanno una settimana prima settimana no alcuni fanno gli straordinari cioè non è balenato non c'è qualcuno che gli sia balenato per caso così che non gli sia venuto in mente di pensare che quelli che fanno gli straordinari è gente che rende no perché questa questa è una truffa ai danni delle imprese dello stato perché nel momento in cui adesso rispondo io perché nel momento in cui una persona è dipendente non puoi mettere una persona in cassa integrazione e pagare degli straordinari un'altra perché è una truffa quindi non è un discorso di meritocrazia ma è un discorso di rispetto delle persone che ci vuole questo è la base di tutto giampiero giampiero ti saluto grazie bisogna avere rispetto per chi se lo merita però bisogna avere rispetto per tutti nel campo lavorativo senza senza per chi se lo merita per chi se lo merita se ne siamo tutti sul terzo piano Giampiero ti ho già detto che la tua cosa la tua visione non è su quella che può essere la visione delle grandi aziende le grandi aziende non vanno molte volte sulla logica della meritocrazia comunque ciò non toglie che non puoi mettere in cassa integrazione e quindi far pagare allo stato la cassa integrazione e far lavorare delle altre persone il sabato e la domenica e questo non esiste questo è il punto base sul quale non si deve transicere se non ci capiamo più ciao giampiero grazie eccoci qua è sempre ascoltatori tenaci e ascoltatori tenaci che mi dicono sempre le stesse cose ma adesso te la spiego si stavamo parlando delle grosse multinazionali stavamo parlando in particolare prima di ad esempio era di veco perché qua brescia è chiamato un telespettatore di veco ma si può parlare di tante altre multinazionali dove lui diceva ci sono noi siamo in cassa integrazione una settimana sia una settimana no però poi c'è chi sabato e domenica fare straordinari e dipende da quindi capito allora questo era un po un discorso che è un discorso di per sé delicato certo da affrontare e che non c'entra nulla con l'argomento che noi stiamo affrontando adesso no e che va beh gli abbiamo dato una risposta lo stesso gli ho dato io è stato bravissimo a gestire la cosa e questo poi so che pietro giampiero non è d'accordo con me ma non devono essere proprio tutti d'accordo con te no assolutamente anzi ci vuole un po di un po di mordente torniamo torniamo però al discorso che stai facendo che era molto interessante cioè la facilità e la grandezza di un paese come Londra che ci permette di aprire una start up in due giorni o un'azienda una società in due giorni ma sono operativi ed essere in una rete aperta aperta in connessione di non c'è tutto il resto del mondo dice facciamo una silicon valley qua mi va bene l'idea è interessante di poter dare diciamo una zona franca una bellissima perché in italia ogni settimana ci sono 12 12 10 12 eventi di start up dove in questi eventi in questi li chiamano pitch elevator pitch in inglese dove ti metti in mostra ai pochi minuti per parlare agli altri di quello che fai e si contaminano tra di loro ci sono 10 o 12 eventi al alla settimana ogni settimana per conoscere realtà ma dal sud al centro nord e dove c'è veramente gente preparata ragazzi formati che hanno voglia di fare che aspettano solo la possibilità di avere dei manager che li facciano anche da tutor che li possono guidare su queste cose qui e che possono sviluppare le loro idee io ne ho seguiti qualcuno online in streaming interessanti qualcuno c'è un po di tutto c'è del turismo tutto quello che serve per facilitare alcune molto di moda le varie app le varie app ma non solo io sono convinto non so siamo entrati in contatto anche chi sta sviluppando una cosa molto delicata dal punto di vista anche medico dal punto di vista diagnostico dal punto di vista molto interessante con strumentazioni che facilitano il lavoro che facilitano la vita quotidiana la base di tutto è l'essere comunque preparati cioè studiare il più possibile e andando oltre quello che sono i libri di testo ma cercare di specializzarsi in qualcosa e poi c'è la qualità fa la differenza la qualità fa la differenza soprattutto nelle parlavi di aziende abbiamo portato i ragazzi di royal trunk trunk in inglese vuol dire baule si sono inventati un sogno una cosa di vedere l'arredamento in modo diverso dai vecchi bauli hanno trasformato questa idea hanno fatto un'idea di lusso hanno fondato la loro società da due anni e mezzo ci sono sono ancora vivi sono andati al fuori salone hanno preso un angolino come questo della tua scrivania al fuori salone a milano vuol dire fuori dal salone nel mobile ci sono dei piccoli eventi hanno fatto una piccola mostra con loro piccoli oggetti o grandi oggetti che erano bauli piccoli cose buyer dall'estero cinesi arabi eccetera i ragazzi hanno avuto successo si sono finanziati vendendo le loro cose di alta classe vendendo questo questa capacità dall'italia di artigianato hanno risvegliato artigianato locale qua poi si sono spostati verso varese perché la valigeria viene fatta la per fare un loro oggetto un loro baule un loro contenitore ci vogliono 60 artigiani che lavorano su questa cosa qui molto particolari apriranno ad abu dhabi un già un negozio sono apriranno un negozio a milano sono dentro il salone mobile che sarà a breve con delle relazioni magnifiche non a portata di tutti sì ma per quella clientela lì sì e danno lavoro alle persone sì danno lavoro a questo territorio che se no sarebbe sparito anche l'artigianato sparisce la manualità la parola artigiano la capacità di star lì a cesellare una cosa fatta a partire l'artigiano è quella figura che ormai stiamo perdendo e che invece sarebbero posti di lavoro e prospettive di lavoro qua si dice quasi che ci sono lo leggevo se non sbaglio settimana scorsa nei quotidiani che non so ci sarebbero centinaia di posti di lavoro che si perdono perché non si tramanda queste conoscenze conoscenze di artigiani la capacità orale è divisiva di imparare il piccolo di bottega è sparito l'apprendistato c'è non c'è l'apprendistato è diventata una forma a basso costo a basso costo per fare la versione che fai le fotocopie per essere proprio no invece dovrebbe essere quello che impara dal fornaio impara dall'artigiano dal calzolaio da queste capacità di poter fare c'è gente che spende ancora quello sì c'è ancora che potrebbe darmi da mangiare io stare qui essere internazionalizzato stando qua certo vendo i miei prodotti all'estero ci sono vari tantissimi canali soprattutto lasciando stare le app soprattutto quello che riguarda la vita normale di tutti noi l'artigianato vuol dire anche la capacità di sartoriale la capacità di fare le scarpe in un certo modo le borse la capacità di inventarsi qualcosa da vendere con la passione che abbiamo noi italiani la capacità all'estero se noi andiamo all'estero per fortuna abbiamo ancora un'immagine positiva viene dall'italia viene dall'italia quindi c'è ancora un c'è già un 30 per cento di più di prezzo ma ecco vale di più vale di più perché ancora la massa è della qualità della qualità dei made in italy si sentivo un architetto che vive in texas che italiano che è andati là un biglietto di sola andata cioè non aveva nessuna intenzione di tornare a somma no 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 progetta ville per super ricchi da 15 20 milioni di dollari eccetera gli americani però di quel tenore di vita lì vengono in italia visitano il paese vedono l'aspetto di cripto e poi tornano da lui dicono voglio la casa con questi ricordi questo voglio il materiale di quel marmo che ho visto in italia voglio quelle quei sanità voglio quella cosa lì solo questo potrebbe essere ricollegarmi al prezzo del dollaro chiesto certo potrebbe essere già un bellissimo canale una bellissima cosa di poter esportare quello che facciamo noi la capacità di essere qua un giornale americano ha detto che uno dei 50 posti da visitare in italia e nel mondo è l'italia siamo in testa la classifica degli americani come sogno come dream come come immaginario anche dal punto di vista turistico e no gastronomico culturale tutto questo ci sta certo che come dicevo con Ettore Prandini che è stato ospite nostro per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo parlato di agricoltura perché altro settore viene definito il settore dove ripartire dove ripartire nonostante le problematiche il prezzo del latte il prezzo dei suini tutte le difficoltà che hanno però dicevamo se io vado in una bellissima posto e non ho la campagna arata non ho la campagna seminata quel posto lì viene riempito da erbaccia non ha la stessa cartolina vedo quei borghi toscani se non il campo non c'è il fieno imballato non mi fa lo stesso effetto che bel posto o no assolutamente e quindi l'agricoltura come strumento di turismo quindi anche questo il turismo locale abbinato alla agricoltura importantissimo quindi anche qua localmente riscoprire questi aspetti qua per portare qua i turisti certo i turisti devono ricordarsi di essere stati qua e poi adesso arriviamo a parlare di Expo arriviamo al nostro prima andiamo in pubblicità e poi arriviamo a parlare di Expo grazie a tra poco grazie che finale meraviglioso la fiera del bianco fibra 1 svuota tutto l'inverno tutto al 50% collezioni inverno biancheria trapunte piumini piumini bimbo copri piumino e coperte la biancheria al 50% piazzale garibaldi 14 brescia centro arredi metalmark 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili quantità qualità prezzo questa è la nostra forza saldi 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 con sconti fino al 70% le migliori marche al prezzo di fabbrica prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile cucina 3 metri e 15 lineari completa di elettrodomestici prezzo bloccato a 1190 cucina tropea a partire da 1850 cucina barcellona a partire da 1650 colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni tutti componibili a partire da 399 euro oltre 60 modelli di camere da letto moderne classiche a prezzi incredibili camera matrimoniale completa a 499 camera a partire da 899 grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299 saldi 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 su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare centro a redi metal market orti nuovi brescia inviato a 36 vorremmo comprare un divano ma siamo sicuri che esistono possiamo provarli anche noi via guttenberg 26 buon canale telefono 0 30 25 48 934 www.bv-divani.it ottica crystal 2013 a san zeno 200 metri sulla destra una volta presa la rotonda per buco satollo esami visivi attrezzature all'avanguardia laboratorio per forgiare a mano le lenti showroom di 350 metri quadri con più di 58 marchi d'occhiali vista e sole solo prodotti italiani tradizione innovazione glamour qualità al giusto prezzo ed assistenza personalizzata per ogni cliente ottica crystal 2013 finalmente l'eccellenza per tutti promozione fino al 31 marzo occhiali da vicino e o lontano esame visivo e montatura glam compresa 119 euro occhiali da vista sole colorazione a scelta intera e montatura glam compresa a partire da 129 euro l'eccellenza della crystal siete voi l'amore per il territorio la cultura contadina sono gli ingredienti che ci sva usa per portare sulla vostra tavola questo formaggio la nostra rosa camuna la trovate nei migliori negozi e supermercati di casa vostra ogni piccola fetta vi racconterà la nostra storia il casoncello di stefano e letizia produzione artigianale di casoncelli tradizionali con le erbette e con la zucca tortellini tagliatelle all'uovo agli spinaci ai funghi porcini e al salmone secondo l'antica tradizione di barbariga il gusto nostrano come una volta visita il nostro sito www.ilcasoncello.it venite a trovarci vi garantisco sarete soddisfatti siamo la valle dei fiori e vi voglio presentare grandi offerte sia radici nude come queste o anche tutti i frutti nei sacchietti dei vasi di almeno 1500 tipi diversi che potete mettere nel vostro giardino vi ricordo che la valle dei fiori è sempre aperta anche festivi e prefestivi il nostro canale Vi aspetto presso lo Shorumbuti dell'arte oltre a tantissime collezioni di stupende pellicce troverete anche le nuove linee di piumini montoni sportivi e chic E non dimenticatevi di portare tutti i vostri capi usati Davuti dell'arte hanno un grande valore Sì sì la notte ogni lunedì dalle ore 23 con Betty Blue La mia bellissima Rai, l'ospite d'ecezione, l'esperto nei gioielli con Carla L'ufficio stampa con Antonio e il nostro direttore artistico Christian Un bello staff, un bel lunedì per ogni lunedì dalle ore 23 Sì sì la notte è tutti con noi Eccoci, eccoci tornati Siamo tornati Siamo tornati, ho bevuto un goccio d'acqua Grazie Christian mi hai salvato la vita Sei un professionista Capisco il buono perché mi capita anche a me Stavo strozzandomi e Christian ha detto pubblicità Non per niente c'è sempre l'acqua io vicino Grazie Christian, grazie Volevo dirti ad esempio Ho preso due appunti in primavera da te Intanto per citare alcune Le imprese che chiudono nel 2014 sono un po' di meno Quindi vediamo un piccolo Ne hanno chiuso 104.000 104.000 non sono poche Con migliaia di persone Ma rispetto al picco del 2013 C'è stato un piccolo rallentamento del 3,5 Che in numeri nazionali è un peso Quindi c'è stato un piccolo rallentamento Ma nel frattempo quante ne hanno aperte più o meno? Si sa questo? Le aperture in questo momento non mi hanno coperto Siamo a pari Non mi hanno coperto Perché ogni una che muore ne aprono di start up Di start up sto parlando Dalle 3 alle 4 Quindi però come dicevo prima C'è anche una premorienza Di queste start up nell'arco dei 18 mesi Quindi questi dati sono un po' contraddittori L'unica cosa che si sente A meno adesso c'è stato un dato recentissimo Sul manifatturiero Cioè la produzione manifatturiera Dove l'Italia è la principale Che c'è stato un calo a gennaio C'è stato un calo di prestiti privati Abbiamo un problema Dal 15 di dicembre al 20 di gennaio L'Italia si ferma Si ferma proprio Dal 15 di dicembre al 20 di gennaio Al 20 di gennaio si ferma Tu parli con la gente Non è presente a se stessa Ci sono le ferie di Natale C'è qui e c'è là Capisco la festività religiosa La condivido Va bene Però un mese di fermo Un saluto ci si ferma dal 23 al 6 Bravo Dal 23 al 6 Quello potrebbe essere È fisiologico Lo fanno anche i tedeschi Lo fanno tutti Ma un mese e mezzo E poi a novembre Pensare già a dicembre E poi a gennaio Sono appena finite le ferie E non ho voglia Ecco i dati che calano Questo è un dato oggettivo Ci sono anche Un dato oggettivo perché non c'è richiesta di mercato Non c'è La produzione è calata proprio Meno pezzi Meno birro fatte Proprio per il tempo di unità lavoro fatta Cioè proprio Cioè giusto per andare in ferie Esatto Giusto perché Le ferie Ma Un dato positivo Diamo un altro Gli immigrati sono cresciuti I conti correnti aperti degli immigrati Di categorie specifiche però Dal 2010 al 2013 Più 42% Ad esempio L'apertura di conti correnti Allora Sono tantissimi Pakistani più 15 Cina e India Più 12 Più 12 E non va dimenticato Bangladesh Che arrivano con i soldi contanti Bangladesh più 22 Più 22 di apertura di conti correnti Di apertura di conti correnti Possono essere una partita IVA singola Di attività Di ristorazione Quindi Società di capitali Più Ma sono numeri importanti Questi Questi che sto dicendo Derivanti da Da questo settore economico Che bisogna guardarlo Con favore Dal punto di vista Economico Perché Non portano via Lavoro A noi Ma Anzi forse Generano Positive Possibilità Anche di fornitura Di quant'altro Perché Come tutti Non siamo Pericolosi C'è qualcuno Dal punto di vista economico Sto dicendo C'è un dato positivo Da questo punto di vista Altre cose Ecco qua Pronto Buongiorno Cristian Buongiorno Sergio Sergio Buongiorno Quello che Quello che mi fa Arrabbiare a me No Hanno aperto Pakistani Indiani I Keba Non che Vaprano tutto Consente Ecco Però Questo signore qua Non dice Che loro Non pagano niente Come i cinesi Hanno nome Fantomatici Che il titolare Della licenza Quando Casualmente Va lì A fare un controllo La guardia di finanza Non esiste mai È in Cina Per lavoro È in Cina No Non dicono mai Che non fanno mai Biglietti Fanno un'evasione Totale Quasi totale Del loro lavoro Prima di tutto No E dicono Hanno incrementato Il lavoro Ma ti credo Un italiano Quando apre Una piccola attività Va Deve portare Sul comune Anche la questura Preventura Deve dire Se ha Qualsiasi operario O meno Dentro In un'azienda Va fuori A vedere Va fuori A vedere L'abitabilità Il comune Ma guarda Caso Che a questi signori Qua Non va fuori Mai A vedere Niente Nessuno E tutti i locali No Devono avere Anche Il bagno A norma Va bene Quindi tu dici Non fai A vedere Quanti esercizi pubblici Grazie Sergio Chiaro Tess Grazie 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 Sergio Sì È successo anche a Prato Dove c'è la culla dei cinesi Però adesso I controlli ci sono Non è il nostro compito Controllare Il compito è segnalare Qualche piccola Pillola di positività Perché se continuiamo A dire le cose negative Non ne andiamo più fuori Se c'è qualcuno Che sbaglia Ed è vero Alcuni particolari Che vengono Dei cinesi Nomi scambiati Società Eccetera Vengono sanzionati Vengono chiusi Tutte le società sono così? No No Non tutte le società Anche perché se no Non avremo apertura di conti correnti Non avremo apertura di conti correnti Non avremo flusso E se vogliono Non ce li farebbero neanche transitare i soldi Perché hanno un'economia parallela Se proprio vogliamo andare a vedere Da questo punto di vista Sto guardando Degli aspetti positivi Che vogliamo dare dei flash Che siano positivi Perché dobbiamo dare questi segnali Se no Chiudiamo tutto E andiamo a dormire tutti quanti Eh Magari Pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno Sono Beppe Buongiorno Beppe Buongiorno Beppe Voi si è dimenticato di dire però Che in Italia Ci sono 150 miliardi annuali Di evasione fiscale E lei mi dirà Sì perché sono troppo altra le tasse È vero Però se vogliamo abbassare le tasse Alte Ma se questi qua non pagano Questi qua non è gente Grossa Rossissima Anche loro Però sono Bottegai Artigiani Dicendo Con 150 miliardi annuali Di tasse E base E il discorso è lì E non mi dice alcuna volta Perché sono Le tasse troppo alte Perché se no Non c'è più soluzione Buongiorno Buongiorno Beppe Allora 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 Ha ragione sul punto del numero Di evasione fiscale Sicuramente Il vento è cambiato Ci sono accordi Caro Beppe Che Sono stati fatti recentemente Con la Svizzera Con l'Inchest Con Monaco Per il rientro dei capitali All'estero Per l'impatrio Di chi ha portato Fuori i capitali Ormai La comunicazione Basta una semplice comunicazione Della Gizia Delle entrate Che scrive alla Svizzera Dice voglio sapere Di Christian Cristelli E gli dicono Esattamente Il problema è che non è solo la Svizzera Non è solo la Svizzera Eccetera eccetera Quindi Questo rientro dei capitali Con una tassazione Che verrà Faremo una puntata Proprio su questo tema qua Si chiama in inglese Voluntary Disclosure Ma Chiamiamolo Il nome italiano Rientro Il rimpatrio dei capitali Il rimpatrio dei capitali Detenuti all'estero E capire se Una persona che li ha portati all'estero Convenga o meno portare in Italia Convenga o meno portare in Italia E perché se tu non fai questa operazione Questo passaggio Questo passaggio Di quel denaro lì Tu non puoi più C'è un penale Se guardiamo adesso Oggi In galera Per chi ha evaso Eccetera Ci sono 89 persone Sulle centinaia Che hanno fatto Questa cosa È una questione Di normativa In America Ci sono addirittura Delle carceri La cosa più temuta Dalla cattura di Al Capone Perché l'hanno incastrato Sull'aspetto fiscale In America Ti fa paura Il funzionario Del tesoro Sennò ti vedi Una bella tuta arancione E finisci in galera Per 150 anni Come Madoff Cioè tu puoi fare tutto Ma se sgarri Prendi 150 anni Di carcere E li fai Li fai tutti Oddio Tutti credo che li fai 150 Sì però 150 anni C'è nel senso Ne fai 50 Ne fai 50 Però Madoff L'hanno preso Con tutti i milioni di euro Con tutti gli avvocati Con tutte le cose Quindi Quella cosa Dobbiamo E' partita dagli Stati Uniti Questa Moral Suasion Chiamiamola così Questo incentivare Agli stati Alla trasparenza Dal punto di vista fiscale Poi ci saranno sempre I stati black list Ma Dal Vaticano Che sta cominciando A dialogare Con lo Stato italiano Da San Marino I segreti Che c'erano all'interno Esatto Dal punto di vista Dei soldi Dal punto di vista Delle transazioni Alla Svizzera Alla stessa Lì che sta Nello stesso Monaco Quindi tutti questi paesi Hanno firmato Circa 50 paesi Che erano prima In black list Per dire Va bene Io do questo Però tu mi dai questo Quindi Un'armonizzazione fiscale Dei poter Tamponare Questa evasione L'agenzia delle entrate Dal suo computer Schiaccia due tasti Adesso Accessione Ai conti correnti All'anagrafe Dal punto di vista Del Dal punto di vista Del patrimonio immobiliare Dal punto di vista Tutto Quindi Vede tutto L'informatizzazione Se uno vuole fare Adesso Da gennaio L'agenzia delle entrate Può vedere tutto Quindi Da questo punto di vista Bisogna stare attenti Le cose sono cambiate Non è più come prima Non è più come prima E devo sicuramente Se Come dicevi tu all'inizio Festa delega fiscale Mi dà un segnale Di abbassamento Delle tasse Che io possa Pagare il giusto Non che prendo 100 euro Mi ne porti via 64 Esatto Esatto Questo è la base E questo è la base E dopodiché Possiamo ragionare Anche perché vuol dire Lavorare quasi sette mesi Per lo Stato Non va bene E non sta in piedi Non sta in piedi Non sta in piedi Non sta in piedi Non sopravi Anche un povero Cristo Anche un povero artigiano Fa L'evasione di sopravvivenza Esatto Esatto Vogliamo Chiamarla così Per forza La devi fare I giornalisti più bravi I professori più bravi di me La chiamano così Invasione di sopravvivenza Dove Dopo si è suicidato A Napoli Quello che faceva le pizze Perché L'avevamo trovato Gli hanno dato 2500 euro di multa Perché Non aveva un aspetto burocratico E uno scontrino Dove è andato la multa A quello che dava il panino Al disabile Tutti i giorni Sì E allora Ci vuole un po' di buon senso Andare a punire Effettivamente Chi Ha fatto Sgarra Chi ha fatto Di grossi E ci siano delle leggi adatte Ma Un attimo di Buon senso Ci vorrebbe Nell'applicazione della legge Che va rispettata Sicuramente Le tasse vanno pagate Ma non il 64% Vanno messi in condizione I cittadini Di pagare le tasse Le imprese Di poterle pagare Nella giusta Nella giusta maniera Nella giusta maniera Nella giusta maniera Dignitosa Io ho detto una cifra Tra l'altro Era lo stesso numero Che ho in mente io Un 30% Un 30% Ma te lo do È giusto Perché devo avere un servizio Le strade Mi dai Va bene La sanità Mi dai i servizi Mi dai i pullman Adesso non ho I treni che mi vanno Da Brescia a Milano Pendolari Vogliamo parlare Di treni Di cari bestiame Di cari bestiame Io devo avere Quei servizi dignitosi Devo avere Una qualità della vita Che mi permette Di poter Lavorare in maniera Dignitosa Questi servizi Vengono pagati Dalla comunità Come? Permettimi di poter Progredire La mia azienda Di poter prosperare E non dover pensare Di trasferire La mia azienda All'estero E non dover pensare Delle formule Alchimie Fiscali Per No Permetti all'imprenditore Di fare l'imprenditore E di pagare Certo Dopo L'imprenditore Trufaldino Ci sarà sempre Le persone brave Perciò Sono molto di più Dei Trufaldini Perché sul giornale Ci va il Trufaldino Le brave persone I bravi imprenditori Faticano a trovare Questo spazio Che noi con Restart Gli diamo Ma Perché? Perché la buona notizia Non fa Prima pagina No Quello Quello sempre Ma Visto che mancano pochi minuti Due battute su L'Expo L'Expo 50 giorni oggi 50 giorni L'Expo Sarà un successo Sarà un flop mondiale? Sono Contraddittorie le cose L'Expo è stato conosciuto Per gli scandali Per Ci siamo fatti conoscere Per Le tangenti Per I ritardi I ritardi Le infrastrutture che non ci sono Non ci sono i collegamenti Collegamenti Soprattutto In questo momento La metropolitana Alcuni tassisti Dicono Dove è che lascio I passeggeri In questo momento Oggi Oggi Marzo 150 paesi Ne hanno fatti Una cinquantina Finiti Ne mancano Parecchi Nota positiva Sul Bresciano L'albero della vita Con la rete di imprese Il famoso Albero della vita Hanno tirato sulla corolla Mai fatto prima Questa operazione La corolla È un fiore Praticamente È stata innalzata Quindi le imprese Bresciane Stanno facendo il loro lavoro Lo stanno facendo bene E lo stanno facendo Con serietà Quindi Ci volevano Forse dei manager Questo lo dico Che fossero Impeditori Che dicessero Fai questa cosa qui E porta a realizzarla Come l'albero della vita Che sta venendo su adesso Non avremo questi ritardi Non avremo questa Impasse Ma noi rischiamo adesso Secondo Cioè L'inaugurazione Faremo con delle tende Che copriremo Qualche buca Per coprire Qualcuno vocifera Che faremo Un'inaugurazione Ridotta Ridotta Dei cantieri Che sono ancora in essere Alcune opere Purtroppo Dal punto di vista Come dicevi giustamente tu Della viabilità Io immagino Finiranno Dopo Ottobre Quando è finito Sì Io che ho vissuto Sette anni A Milano E più o meno In quella zona Conosco il caos Di quella zona E di come La metropolitana rossa Poiché La metropolitana 1 Certo Sia già Congestionata Congestionata Io mi immagino Quando ci sarà Mezzo mondo Che verrà qui A vedere l'expo Per professione Come promotore finanziario Vado spesso a Milano Per corsi Però Quando ti trovi lì Alla stazione centrale Con lavori Ancora da fare Se uno dice solamente Della sicurezza Lì solo per la sicurezza L'aspetto sicurezza Non è secondario Non è secondario Non è secondario Anche perché bisogna garantire A queste persone Che vengono in Italia Che non stanno andando In un paesino Del Bangladesh Ma In una metropoli In una metropoli Europea Dagli la sicurezza Dell'alloggio Di comunicazione La capacità di arrivare Senza essere Derubato Derubato Deportato Non in ore e ore Di coda Perché questo è il rischio Che dall'albergo All'expo Ci siano ore e ore Di coda In macchina In macchina O in metropolitana Schiacciati come sardine Sempre che non si ferma Questa è una realtà Vedremo il primo di maggio Cosa succederà Dal punto di vista Proprio operativo Perché bisogna andare là Ci sono passato in autostrada Si si vede 24 ore su 24 Vedi delle cose Che stanno avvenendo su Si 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 Delle cose enormi Faraoniche Eccetera Però vedi anche Speriamo che il dopo Anche quello diventi Diventi veramente Come c'è qualche progetto Una parte universitaria Sarebbe molto bello E una parte per le start up Cioè diventi Un grande hub Per un fermento Di poter portare là Il sapere L'università Gli alloggi per i ragazzi E l'aspetto tecnologico Delle start up Se questo potrebbe essere Veramente il dono Che lascia l'Expo Oltre l'indotto Oltre gli affari Ma il dono del dopo C'è quei badiglioni Che molti sono smontabili Ma molte aree Potrebbero diventare Case per gli universitari A prezzi accessibili E sedi di alcuni Dipartimenti universitari Di ingegneria Mi immagino O quant'altro Collegati alle imprese Con un collegamento Università e imprese E delle aree Di co-working Come si dice Dove si trovano Tutti gli start up A lavorare E sia una cosa fertile Dove lì ci siano Le camere del commercio Là Che sia facile Per me Aprire un'attività lì E che anche noi Dobbiamo arrivare A aprire un'attività In una settimana In tre giorni Questo deve essere L'auspicio delle Spon Che ci porti quello anche Una sburocratizzazione È una cosa Voglio vedere Voglio trovarcelo Un aspetto positivo Anche perché il risultato È tanti giovani Che se ne stanno E non sono giovani Che se ne vanno all'estero Continuamente Continuamente Purtroppo continuamente Biglietto di sola andata Ma non solo all'estero Va bene in Germania Si si va a essere all'estero Se guardi Quelli che sono iscritti All'AIRE Cioè regolarmente In Germania Ci sono 450 mila persone In Francia altrettante In Inghilterra Non parliamone Ma molti non sono iscritti Non segnalano La permanenza Molti prendono proprio E vanno Direttamente Soprattutto infermieri Gente di qualità Cervelli di un certo tipo Medici Mettono online Il curriculum E dopo una settimana Vanno a lavorare Grazie di cuore Maurizio Poli Grazie a te Quindi appuntamento Con Restart Mercoledì Mercoledì alle 21.45 Facciamo vedere La puntata Dell'amico fornaio E delle ragazze Mercoledì La rifacciamo vedere Artigiani Imprenditori Coraggiosi Mercoledì Alle 21.45 Perfetto Grazie Maurizio Grazie dell'invito Cristian Grazie telespettatori Noi ci vediamo domani mattina Puntuali Minuto più Minuto meno Alle 9 Ciao a tutti Buongiorno a questo giorno Che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte dal caffè Buongiorno a chi non c'è E il mio amore Buongiorno Per dirle che lei Che per prima al mattino A vedere Io vorrei E un giorno nuovo E spero che Sia buono anche per te Grazie a tutti.